Palazzo Pascali adesso è una sorta di cantiere diciamo per la di sistemazione perché era già stato inaugurato già era partita l'idea di questo punto della città tu sei il titolare il proprietario diciamo così che lavori che lavori stai facendo che cosa rifacendo tutto il penerboso l'aiuolo abbiamo messo in un litro facci vedere andiamo a vedere senza toccare naturalmente nulla certo sopraelevate senza scavare giusto le tracce ma erano già dei pozzetti preesistenti per l'illuminazione di quell'altra parte che dovremmo sistemare quindi praticamente il prato qua ci volete mettere questo splendido olivo è stato messo a dimora da poco l'avete messo quella parte alta sarà sempre una parte dedicata al giardino tu mi dicevi insomma c'è stata l'inaugurazione nel 2017 però poi è rimasto così di fatto io non sono stato fuori sono stato poco bene e poi siamo tornati e quindi ci hai rimesso ci hai rimesso le mani in questi giorni stato alla fine neanche una settimana abbiamo fatto quindi diciamo che manca manca il prato ma poi che ne sarà di questo spazio è lo spazio privato vabbè però avete tante cose in mente ci sono altre realtà aquilane che già esistono certo anche perché i primi tempi ricordo che ci venivano anche le scuole sì vorremmo ridargli una terza vita una terza vita tu abiti qui ovviamente io ho il piano di sopra ma il piano di sotto pure voglio sistemare l'ana sistemata insomma e quindi era nato come giardino come me di itineraria col palazzo il basaio l'ha poi la storia anche dell'acqua di questo posto vero e quindi c'è l'idea di farci di farlo tornare vivo sì di farlo tornare vivo di sfruttarlo per qualunque idea occasione pure convennico mostre arte musica quindi aspettiamo ci sarà qualche sorpresa sicuramente possiamo dire così speriamo di sì ma non vorrei dire troppo però insomma qualcosa c'è qualcosa c'è sotto